Con il recente sviluppo su tutto il territorio di una nuova rete di ciclovie e piste ciclabili, Laura è un esempio delbergatrice che vorrebbe allargare la propria offerta turistica, sfruttando la nuova opportunità di business legata al cicloturismo, offrendo ai propri clienti la riscoperta dell'entroterra in bicicletta. Ma c'è un primo problema. I percorsi presentano spesso forti pendenze o lunghe distanze e la maggior parte dei suoi clienti, che non sono ciclisti, non riuscirebbe ad affrontarli. È necessaria dunque una bicicletta pedalata assistita. Laura si trova davanti al grosso dilemma di dover investire migliaia di euro per dotare il suo hotel di un parco di e-bike. La soluzione è semplice. Emotion Bike si occupa dell'organizzazione di tour, mettendo a disposizione degli hotel una flotta di biciclette a pedalata assistita e una guida, annullando il gravoso investimento di acquisto e manutenzione delle bici. Il processo è molto semplice. Attraverso un'affiliazione, Laura avrà accesso ad un portale di prenotazione. Non dovrà fare altro che raccogliere il numero degli iscritti e prenotarli. Tour, che collegheranno agriturismi, cantine e altri operatori convenzionati, grazie ai quali il gruppo potrà fermarsi a fare una degustazione o mangiare un piatto di tagliatelle. Perché l'affiliazione? Tutti i privati e turisti che cercheranno su internet proposte di turismo a pedalata assistita troveranno il nostro portale che avrà i link diretti alle strutture fidelizzate. Laura avrà a disposizione video e materiale infografico da condividere all'interno dell'hotel e sul web, in modo da poter promuovere pacchetti turistici e intercettare una nuova clientela grazie all'offerta di un nuovo servizio. E non solo non dovrà spendere soldi nell'acquisto delle bici, ma guadagnerà con la sola promozione del servizio. Emotion Bike. Guida il cambiamento e fidelizza i tuoi clienti. Grazie a tutti.